Tu sei nato qui, cresciuto qui. Questa cupola è l'unico mondo che conosci. C'è un posto appena passato il crinale a est, proprio qui. Papà, di che cosa stai parlando? Lo capirai. Andrai là fuori. Al cratere. Qualunque cosa ci sia là fuori, tuo padre voleva che tu la vedessi. Non siamo mai stati fuori prima d'ora. Cosa avete deciso? Ci andiamo stasera. Ho sentito che è strana. Perché? Perché lei viene dalla terra. E allora? Sono particolari. Tu sei particolare, tutti a favore. Andiamo a rubare un rover. Il lockdown comincerà... Forza! ...tra cinque, quattro, tre, due, uno, 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 uno. Sai qual è la cosa migliore di un viaggio? Che puoi lasciarti tutto alle spalle. Ci siamo! Alla fine del nono. La carica. Il cielo sulla terra è davvero azzurro. Sì. Wow. È la cosa più importante da ricordare. Questa è una pettima idea. Lascio! Attenti! Attenti! È che ciò che conta non è dove stai andando. La pioggia di meteoriti. Addison! Correte! Conta come ci arriverai. Le persone con cui ci andrai. Kale, cosa c'è nel cratere? Non lo so. Lo scopriremo. Tu dovresti andare per primo. E alla fine non sarai più lo stesso. Sono stati i due giorni più belli della mia vita. Civile civile. modifier. Copa. 65% È che. C'è gehen.